Triburo Sonera, amiche amici del Marietto, buonasera, Napoli-Milan 2-2. Per la sesta partita consecutiva i ragazzi escono indenni. Quattro vittorie, due pareggi. E questo veramente è stato un pareggio di quelli più tosti che non ci potevano essere. Il Napoli sui numeri, sui tiri in porta, sicuramente avrebbe meritato molto di più. Però nonostante tutto, ultimi dieci minuti con recupero incluso, il Milan in dieci per l'espulsione di Selemekers dopo due falli veramente assurdi. Molto nervoso stasera il ragazzo belga e insieme a Donnarumma secondo me sono stati peggiori. Stasera Gigio veramente era in palla, ha sbagliato un sacco di passaggi, di appoggi, di rinvii. Poi i due gol veramente, soprattutto il secondo sotto le gambe anche se è una deviazione. Però non è che mi sia piaciuto veramente tanto. Il Milan ha fatto una partita comunque concreta, nel senso che non abbiamo spiccato. Ci sono state delle fiammate qua e là, però Paquetà anche lui non mi è piaciuto, molto inconcludente. Che sì, sì e no. Un primo tempo dove il Napoli secondo me avrebbe meritato molto di più del pareggio. Poi infatti nel secondo tempo, appunto, primo tempo un gol di Teo Hernandez. Dopo i primi 20 minuti veramente di asfissiamento del Napoli, è andato vicinissimo al gol, almeno in tre occasioni anche un palo. E al ventesimo invece a sorpresa rimessa del Milan, già proprio contropiede, Teo Hernandez. Al ventesimo passiamo in vantaggio. Al trentaquattresimo Di Lorenzo in una mischia in aria, la rimpalla e alla fine la mette dentro. E al sessantesimo Mertens nel secondo tempo, anche lì, arriva una palla, tira e su una deviazione poi di Romagnoli va sotto le gambe di Donnarumma e segna il Napoli 2-1. E per concludere al settantaduesimo un calcio di rigore su un atterramento in aria di Maximovic su Buonaventura. Batte che sì, freddissimo e pareggia 2-2. Milan rimane appunto in dieci all'ottantacinquesimo per la doppia espulsione di Seleme Kersa. Un Milan, ripeto, concreto e un punto che comunque smuove anche a livello di morale perché siamo usciti indenni da una partita difficilissima. Un Napoli tosto, proprio grintoso, con l'animo proprio di ringhio gattuso. E in ogni caso bisogna fargli complimenti perché veramente ha messo giù una squadra molto aggressiva e per noi è stata veramente dura rispetto alle altre gare. Addirittura probabilmente anche più dura che con la Juve in certi aspetti perché il Napoli pressava a tutto campo. È stata una partita anche che per l'attacco ho visto un'Ibra abbastanza off, anche Rebic. Diciamo che Cialanoglu è stata una partita da sufficienza. Non tanto, però sì che mi è piaciuta la concretezza anche perché è proprio un momento difficile come la partita di oggi, come il Napoli, già lo dicevo prima della partita, era con gli undici titolari. Quindi con la squadra veramente da gala siamo riusciti a reggere l'urto al San Paolo. Un pareggio che comunque a me sta benissimo anche per come si è messa la partita. Non siamo comunque, non ci siamo allontanati anche dal quinto posto perché vuoi non vuoi, la Roma sì che ha vinto però è a più tre, quindi siamo ancora in scia, mancano sei partite. Adesso avremo due partite in casa e quindi dobbiamo crederci perché secondo me l'atteggiamento è quello giusto e tanto di cappello ai ragazzi perché in una partita difficilissima siamo riusciti a tirar fuori un pareggio importante, comunque in un campo importante con la squadra recente vincitrice della Coppa Italia contro la Juventus. Quindi andiamo avanti così, nel trittico che ci davano tutti per morti il Milan è uscito in tre partite con sette punti su nove, vincendo 3-0 con la Lazio, 4-2 con la Juve e pareggiando al San Paolo con Napoli 2-2. Quindi io faccio gli applausi ai ragazzi perché sono riusciti a superare uno del trittico più difficili. Adesso diciamo va un po' più in discesa il calendario quindi dobbiamo approfittarne, avere questa voglia, non abbassare il tono perché sicuramente se andiamo avanti così il quinto posto perlomeno non è un miraggio e possiamo anche raggiungerlo. Detto questo al vostro marietto milanista ragazzi mi raccomando continuiamo sempre a iscriverci al canale con campanellina attiva mi raccomando che è importante e anche il like di supporto e la condivisione per me sono sempre una grande benedizione. Buonanotte a tutti anche ai miei carissimi amici napoletani e ci vediamo domani a un nuovo video. Ciao!